Ma come sono arrivata fin qui? Perché è stata una serie di strane e vaghe circostanze che non avevano niente a che vedere le une con le altre, ma che sono state la mia vita. Ma io non c'entravo niente. Io ero solo un'attrice. Come si dice quando sei sceso in piazza a protestare? La conoscevo già da qualche anno prima. E ti ritrovi per sta manettato sopra un cellulare? No, no, lei non la ricorda questa ragazzina. Come si dice quando una ragazza è riversa all'angolo di un ponte E i lacrimogeni preparano la vita per un nuovo orizzonte Guardate che cosa ha trovato il mio assistente su una bancaretta. C'erano parole che... ... ... Grazie.